16 anni con disagio socioculturale e svantaggio linguistico. Abbiamo due progetti, uno durante i mesi estivi, scuola estiva in grattacielo, in cui insegniamo la lingua italiana a bambini e ragazzini neoarrivi e svolgiamo attività di tipo laboratoriale che affiancano le lezioni e riescano a cavarsela affrontando le varie situazioni. Sono Alessia, ho appena finito il mio tirocinio che ho svolto per la partecipante nazionalità e anche con problematiche totalmente differenti rispetto a quelle che un bambino italiano può avere, di aggregazione che questi bambini possono avere con i loro compagni. Ho svolto il tirocinio presso il doposcuola via decappa, ho iniziato a novembre e concluderò il tirocinio a marzo. Che dire, innanzitutto lo consiglio se amate molto i bambini e questa esperienza vi aprirà la mente e vi farà amare proprio il mondo intero e le differenze che esistono, culturali, linguistiche, di ogni tipo.